ciao a tutti ragazzi e buon messo tutti gli altri ci troviamo qui in un nuovo video di minecraft ragazzo ti sto per aprire una nuova serie oggi mi sta facendo compagnia il socio ormai lasciato nebbia che vi ricordo come come sempre non lagare che vi ricordo come sempre di andare a visitare il suo canale e mettere una bella iscrizione non è vero certo perché stai parlando in un deficiente innanzitutto ho trovato una bella caverna ragazzotti ci troviamo nel ultimo nel plus perché ultima è un casino sta 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 nome e in pratica qua c'è un e ci sono delle pecore che mi servono tantissimo per facilitare peppe verrà chiamato il pack quello lì esattamente mi sa che la chiamo quello lì craft che mi piace tanto non di aprire cosa l'open block se mi cade la sotto bestemmio giuro a non bestemmio bestemmio bro che raccontando laydia un poco di lane me che serve sempre il ramen ada è quella che non danno la lana, mi ha dato la raw lamb mi dai della lana e non mi dai perché ti dice attaccati al cuco oh nausea ma perché nausea, mining fatigue e tutti gli stati dannosi che puoi avere grazie, allora comunque ragazzotti innanzitutto scusatemi dell'alghicchio ma sto cercando di risolverlo perché a quanto capito è una questione solo di aumento e dislivello di fps o di fraps per meglio dire no è semplicemente questione di processore esattamente che starà esplodendo in milioni di pezzi stai giocando una mod con 200 e vabbè c'è un maiale come un cappello muori maiale subito voglio il cappello più figo del mondo ecco quindi ragazzi sapete che è brutto come cappello non è vero bellissimo mamma mia Peppe tu veramente in quanto a cappelli i peggiori gusti mai visti non è vero c'è un piccolo enderman sopra la testa è una mod tecnica allora siete finiti perché Peppe dovrà spiegarvelo con il suo modo di parlare esattamente io ho il mio ottimo modo di parlare quindi vi accompagneremo in questa mod ovviamente ragazzotti è per 1,710 ma me l'hanno fatto scaricare mi ha dato il bacon oddio non laggare però guarda che non è una cosa trascendentale il bacon vabbè ma dalle costolette al bacon c'è un salto di qualità poi qua c'è un fungo allucinogeno che poi vedremo cosa sia dicevo ragazzotti inizierò questa serie da solo per vedere come me la cavo con le mod ma farò no piangere di più sei pessimo te lo posso già dire io se vuoi esattamente qualche volta vedrete spuntare nebbia così tanto per il buffo ma anche no ma anche si ho capito decide lui adesso esattamente non piangere comunque ragazzotti datemi una mano con le mod no datemi una mano con le mod perché in pratica io mod elettriche le so mod riguardante le app e altre cose che ho letto qua ho tanta tanta paura la forrestri esattamente anche la towncraft io non ho mai capito niente qualche video di lui visto che è il migliore a farle esattamente anche ragazzi datemi una mano con voglio capire anche bene la big reactor perché ho visto che c'è e voglio sperimentarla se qualcuno conosce il pack mi scrivo un commento dove mi dice ma io conosco il pack c'è questa mod che voglio che tu esplori meglio ragazzi io sono un lettore di wiki quindi mi metto sulle wiki e comincio a studiare o semplicemente ditegli io so come funziona questa mod ma non te lo dirò buhaha esattamente e dite questo me l'ha detto di dirlo nebbia finalmente la mod si è stabilizzata a 30 perfetto quindi ragazzi ditemi anche dove volete la casa la preferite ecco per esempio qua in vicino a questo laghetto mi piacerebbe tanto perché potrei sfruttare un paio di cosette vogliamo la casa nel deserto vogliamo la casa in mezzo alla foresta fare la casa nel big alpe nel big alpe alpe io non so parlare più io sinceramente ti direi di farla nella lava così almeno ti togli il pensiero esattamente ma è in artico realmente no 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 non è in artico ci manca solo che è in artico guarda la cosa degli slime l'isorto degli slime che spiego andare a vedere con tutta la vita quindi ragazzotti fatemi sapere anche il nome della serie perché io la vorrei chiamare qualsiasi cosa craft però non lo so non era il come si chiama craft o il come si chiama decidete fra qualsiasi cosa ragazzi io a meno male non sa neanche decidere il nome delle serie è una roba impossibile allora qualsiasi cosa craft poi come era l'altro me lo scopo sempre la come si chiama craft la come si chiama craft o decidete voi o la decidete voi craft comunque ragazzi lasciatemi tanti commenti tanti consigli non è vero così così inizieremo queste serie insieme e impazziremo soprattutto insieme tranne la mia bellissima geothermal che la finirò in una puntata sola perché io amo la geothermal quindi vi assillerà la prostata con la geothermal sappiamo anche se in questo pacchetto c'è l'advance solar panel non so se lo userò o meno poi vedremo quindi ragazzotti grazie di avermi seguito quindi come al solito mettete un bel mi piace se il video non vi è piaciuto se non vi è piaciuto scrivete commenti che dicono perché non vi è piaciuto lo scrivete eh sei una micchia perché non mi interessa eh? non ti preoccupare lo capiranno loro no 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 te lo giuro ho fatto fatica a capire quello che hai detto non ti preoccupare è tutto normale eh fidati eh no non è tutto normale si è tutto normale no comunque scrivete commenti costruttivi ovviamente ragazzi vi consiglio come sempre di condividere come le bestie perché le bestie sanno condividere bene di ovviamente mettere un pollice in su sempre quello sempre di iscriversi alla pagina facebook in comune fra me e nebbia che la trovate sempre in descrizione tanti commenti tanti mi piace tanti mi piace hai detto quattro volte la stessa cosa Peppe io non ti sopporto già più eh mi piace vuoi che diventa la tua prima outro più lunga dell'universo? no no per cortesia per cortesia per cortesia eh quindi ragazzotti sono Peppe questa è l'outro e la dico una sola volta perché ormai mi sono abituato a fare così ciao a tutti ragazzi ma non c'è ma non c'è alternativa di farla così scusa sono abituato a farla così no 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 va bene niente è un paio di ciao a tutti ragazzi boom mash a tutti gli altri un saluto e al prossimo video e al prossimo video ciao a tutti